Un elettrodomestico, forse una lavatrice o un congelatore proprio nel bel mezzo del canale Maestro della Chiana. È uno tra gli scorci e aretini più suggestivi, quello della chiusa dei monaci, ma che rischia di diventare l'ennesimo angolo di degrado. Sono i residenti della zona a segnalarci la presenza del rifiuto ingombrante all'interno del canale, circondato da altri detriti. Infatti proprio vicino al grosso elettrodomestico si possono notare distintamente numerosi isolotti di rami e detriti che fluttano sul canale. Altra sporcizia, cartacce, bottiglie ed addirittura materiale edile è stato invece abbandonato sul greto del canale. E se ci spostiamo solamente di qualche centinaio di metri in via Molinara ci imbattiamo in una vera e propria discarica a cielo aperto, proprio accanto ai cassonetti dell'immondizia. I rifiuti infatti non sono stati gettati all'interno del cassonetto, bensì gomme, materiale elettrico, pannelli, bottiglie, cartacce e molto altro ancora è stato abbandonato proprio lungo la strada.